Fino al 12 ottobre è allestita presso l'ufficio Relazioni con il pubblico di Via Arsenale a Torino la mostra artistico-letteraria Viaggiando tra i colori, colori del Piemonte e colori della poesia. L'evento, a partecipazione collettiva e curato dal Centro Studi Cultura e Società, propone complessivamente 26 opere. 13 nella sezione Colori di Piemonte, una sorta di viaggio attraverso le bellezze naturali della regione e la ricchezza del suo patrimonio artistico, 13 nella sezione Colori di Poesia ispirate ad altrettanti testi poetici incentrati sul tema del viaggio. Una mossa dedicata al Piemonte, quella di quest'anno è suddivisa in due sezioni tutte dedicate ai colori, colori della poesia con una serie di quadri che illustrano 13 poesie con cui abbiamo prodotto uno spettacolo e una sezione dedicata ai colori del Piemonte per valorizzare l'ambiente, valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico della nostra regione.